Siamo qui con Enrico che ha appena finito la prima prova d'italiano. Enrico, la scelta di questo Enrico Magris, come l'hai vista e che traccia hai scelto? Beh, sinceramente per quanto mi riguarda mi aspettavo tutto tranne questo autore che tra l'altro non abbiamo trattato durante questo anno anche se devo dire che tutta la mia classe è stato il più gettonato in quanto comunque non ti dovevi soffermare tantissimo sull'autore in sé, quindi la sua storia ma sull'analisi proprio del suo testo. Io ho effettuato invece la terza scelta che era quella della tipologia B articolo di giornale e sugli omicidi di Stato, cioè gli omicidi più litici quindi Kennedy, c'era degli documenti Kennedy, l'uccisione di Aldo Moro e l'altro ora non ricordo. Le tracce erano un po' difficili, quindi io mi sono orientato sull'articolo di giornale ho scelto quello storico e ho fatto uccisioni dei politici. Tu quale tema hai scelto? Allora, io ho scelto il tema della relazione tra l'individuo e la società che ormai ultimamente si sta un po' uniformando in una massa unica. La traccia portava vari testi, come quello di Pasolini e diciamo le critiche un po' alla società moderna che tende a mascherare lo sporco che ci sta mettendo in risalto soltanto il bello, il bello delle cose. Quindi ovviamente sorge una verità un po' nascosta. Quale hai scelto e perché? Allora, io inizialmente ho scelto quello socio-economico, però era molto più, cioè era molto difficile e quindi mi sono più orientata verso quello artistico-letterario che riguardava le società di massa e l'individualismo. Perché la scelta era più preparata? Sì, era un po' più preparata, poi riguarda più che altro un argomento d'attualità perché al giorno d'oggi quasi tutti seguono la massa. Beh, è abbastanza difficile le tracce e anche io ho scelto quell'artistico-letterario come Roberta perché comunque un tema d'attualità era semplice, anche il più semplice con gli argomenti erano ben strutturati. Parliamo un po' di questa scelta di Claudio Magris, uno scrittore vivente che praticamente si tratta molto poco durante l'anno. Tu che cosa hai scelto e come ti sembra questa prima prova? La prima prova è stata abbastanza tranquilla, io comunque ho scelto la tipologia B, il numero 2 e praticamente era un tema sulla crisi economica che si sta verificando in Italia e per quanto riguarda Magris non l'avevo praticamente mai sentito nominare quindi è stata una sorpresa sia da parte mia che da parte di tutti i professori che comunque sono rimasti un po' interdetti da questa scelta. Inizialmente eravamo tutti un po' in difficoltà perché ci siamo trovati spiazzati soprattutto per l'analisi del testo perché è uscito un autore che non conoscevamo però poi leggendo le tracce comunque ci siamo orientati un po' meglio e io ho scelto quello storico-politico sugli omicidi politici comunque è un argomento che mi è sempre interessato e quindi ho scelto quello.